La polizia locale di Capaccio Pestum ha fermato e deferito due donne colpevoli di aver rubato un portafoglio ad una signora nell'area mercatale di Capaccio Scalo. Gli agenti, che stavano eseguendo un'attività di controllo del territorio, sono stati allertati dalla vittima del furto e si sono subito messi sulle tracce delle due ladre, che sono state prontamente fermate. Le due donne, già note alle forze dell'ordine, sono state identificate e denunciate, mentre il portafoglio è stato restituito alla legittima proprietaria. Grazie